Si chiamano Richard Gordon e Claudian Gordon. Richard ha 84 anni di età, Claudian ha 81, solo di Salt Lake City, nello Utah, Stadio Unite America, in una bella crociata nel mare mediterraneo, a bordo di una nave della Norwegian Cruise Line, la coppia si è rimbarcata per fare una vacanza come tante altre persone, per celebrare l'85esimo compleanno di Gordon, di Richard Gordon, con amici ma anche i familiari, quella che doveva essere una festa di luglio incredibile e straordinaria, però si è trasformata in un incubo vero e proprio, infatti entrambi sono rimasti bloccati in Spagna, nella penefra iberica, affrontando ostacoli veramente devastanti e insorbontabili per riuscire a tornare a bordo. La svolta si è verificata quando i Gordon, in una tappa a Motrini in Spagna, hanno deciso di partecipare a un'escursione non organizzata dalla compagnia di crociera. Hanno visitato la storica città di Renata, un temporale ritardato l'autobus per loro dove a forto tornare al fatto di tornare in ritardo al porto. La coppia doveva rientrare per i 5 e mezzo del pomeriggio con la nave che sarebbe saltata per i 6 del pomeriggio, i due però sono arrivati a Moro, alle 6 e 10 del pomeriggio la crociera aveva già preso l'acqua, va bene? Insomma, una disavventura, una vera e propria disavventura in piena regola per la coppia che ha vissuto una disperazione totale e completa e allucinante, va bene? Io ovviamente mostro la mia piena vicinanza alla coppia in questione che vi ricordo si chiama Clauden Gordon di 81 anni d'Italia e Richard Gordon che ne ha 85 ormai per quello che purtroppo hanno vissuto, vicinanza entrando. Iscrivetevi, commentateci, ho da Renato Donato Grazie!